Il countdown è arrivato praticamente a zero, favorinetti per Mr. F. Dug, all'uno Zippy Freedom LS, Ferdinando Minopoli, 2 Mr. F. Dug, Robin Bacher, 3 Zeli Cronos, Pietro Gubellini, 4 Zarene Fass, Antonio Di Nardo, 5 Zeus B, Santo Mollo, 6 Ziggolo De Butti, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, 7 Zabulfi, Andrea Farolfi, seconda fila da solo colotto Zephyr Gar, Mario Minopoli Junior. Mr. F. Dug come prima tende a partire molto indietro, l'ha fatto anche prima e ha fatto un parziale in più per arrivare a rete e anche adesso probabilmente ci arriva giusto, sapete se è abbastanza comoda Robin Bacher mentre non è a rete, Zabulfi che rinuncia al lancio, Mr. F. Dug ci arriva comunque in ritardo quindi praticamente non parte e si va a staccare con la velocità di Zarene Fass e Zigolo De Butti, pasticcia Zeli Cronos che poi riesce a mettersi alla corda dietro Zippy Freedom LS, insiste Zigolo De Butti su Zarene Fass, i due lottano a metà della prima curva, Zigolo tende a passare su Zarene, i duecento in tredici e nove, strappo normale per Zigolo De Butti, Zarene Fass vuole solo cambiare la posizione, manda l'avversario percorre probabilmente lui al comando, Antonio Di Nardo ha già spostato Zarene dalla scia di Zigolo, terzo c'è Zipri Freedom, quarto c'è Zeli Cronos 400 in 29 e mezzo, non di questa categoria, Zarene Fass passa senza aver strappato, Zeli Cronos esce, si ritroverà allo scoperto con in scia Mr. F. Dagi, vantaggio Zarene nei confronti di Zigolo, terzo Zipri Freedom, i duecento in 44 e mezzo di nulla seconda pariglia per i Mr. F. Dagi in anticipo su Zephyr Gar, in coda invece Zabulfi curva di destra con Zarene Fass e Antonio Di Nardo che controlla la situazione, Zeli Cronos aria in faccia di fianco Zigolo De Butti, metà gara in un minuto, si va da 1.15 ovvero sia piano perché la finale dell'Orsi Mangelli, Zarene Fass in vantaggio, Zeli Cronos che rimane di fianco Zigolo, la mossa di Zerifri Gar dalla terza pariglia, vediamo cosa fa Mr. F. Dagi dopo un chilometro in 1.14.3 Mr. F. anticipa ovviamente Zephyr Gar mentre Zeli Cronos prova a portarsi su Zarene Fass che cerca di spendere adesso quello che non ha speso prima, 4.50 dal traguardo, Zeli va su Zarene il terzo parziale in spinta in 29, 1.28 in 1.2 con Zeli che attacca, Zarene che si difende ancora poi Mr. F. che deve dare la punta, Zephyr Gar che forse l'ha finita, Zarene Fass in vantaggio all'ingresso della retta d'arrivo, Mr. F. ci prova a centropista, Zarene Fass che si difende Zeli Cronos che è carato, Mr. F. che arriva, ma Zarene Fass ha ancora un paio di lunghezza di margine Zarene Fass arriva il Bissareff, arriva anche Zephyr Gar, Zarene Fass in vantaggio, Zarene Fass la frusta al cielo di Antonio Di Nardo, la Tufano Mania probabilmente che torna, la quota di 5.16, la media di 1.12.7, 1.56.3, 27.9 di là, 28.3 di qua, fa 56 e spiccia ad arrivare Antonio Di Nardo, la vinta in partenza scambiando la posizione con Vincenzo Piscuolo inannunziata e per poi controllare e allungare a 600 dal palo quando Mr. F. Dug, revedibile tatticamente che non prende la rete, viene via forse un po' troppo tardi e comunque era tardi perché Zarene Fass ha piazzato ultimi sei veramente violenti in 41.8, la vittoria di Zarene Fass e Antonio Di Nardo, il training da programma di Di Maroma, ovviamente Vincenzo Tufano, la Safra SRL, la quota di 5.16, la media di 1.12.7, Elisabetta e Jacopo. Grazie Andrea, grande vittoria, grande vittoria italiana da parte di Zarene Fass, Antonio Di Nardo, Michele Di Maro il training, il lavoro anche dietro le quinte di Vincenzo Tufano che abbiamo visto esultante in pista, i colori, quelli napoletani della scuderia Safra Fass, anche lui presente in tribuna e che è anche allevatore del figlio di Varen e Miss Mascol Fass, una grande vittoria, Antonio Di Nardo è stato perfetto, perfetto insegliolo a Zarene Fass, ha portato tutti a spasso e con una grande chiusa finale è riuscito ad imporsi. Per il secondo dovrebbe essere ancora Mr. F. Dug.